hello guys e benvenuti in questo nuovo video finalmente dopo tanto tempo scusate ma questo periodo un po come al solito ultimamente ma purtroppo va così nell'ultimo periodo sono veramente pieno di impegni stanno succedendo varie cose e spero di risolverle tutte diciamo per la fine del mese prossimo tuttavia devo pur portarvi qualcosa qui sul canale e finalmente vi porto la decklist del mio cyber drago per il formato edison che è una del decklist che più mi è stata richiesta e allo stesso tempo più mi ha divertito giocare l'ho testata un pochettino e mi sono divertito veramente tanto ovviamente un mazzo rogue non pensate che sia il t1 più forte in assoluto assolutamente no mazzo for fun che però sa dire la la sua ed è un pochettino una di quelle decklist spicy come piacciono a me sto risolvendo un pochettino di problemi perché il motivo per cui non sto caricando video è quello sto diciamo risolvendo determinate questioni che spero si risolvano entro la fine del mese prossimo ma vedremo e detto questo direi di continuare e parlare appunto del mazzo che è una sorta di otk cyber drago ma prima di farvi vedere la lista se vi piacciono contenuti edison retroformat quindi anche tenku plant ad format e unboxing dei prodotti vintage relativi al mondo di yugi iscrivetevi al canale è gratis costa pochissimo del vostro tempo e soprattutto visto che la maggior parte di voi guarda i miei video ma non si iscrive se vi piacciono appunto i miei contenuti perché non iscrivervi costa veramente un secondo del vostro tempo e supporta un bel po il mio lavoro detto questo allora andiamo direttamente con la presentazione del mazzo allora abbiamo due cyber draghi che vabbè sono semi limitati in edison che ci vogliamo fare quindi abbiamo un po anche ad arricchire il comparto con tre proto cyber drago che praticamente il finché questa carta è sul terreno il suo nome viene considerato cyber drago quindi estremamente utile e poi gioco un cyber drago un cyber drago scusate zuei lo zuei cosa fa praticamente è bene o male lo stesso effetto il proto cyber drago ma quando è nel cimitero quindi bene o male questa è la funzione principale e diciamo gioco determinate carte che mi permettono di mandarlo al cimitero anche abbastanza facilmente in maniera un po randomica forse per certi versi però diciamo ci arriva al cimitero perché anche scartabile dai macchina e soprattutto poi vediamo avanti con la lista ovviamente fatemi sapere se vorreste vedere anche la versione per il formato tango plant ma devo dare precedenza al natura visto che mi è stato chiesto quindi questo è per quanto riguarda le carte cyber drago del main deck quindi lo lasciamo qui il cyber drago dopodiché gioco tre angeli splendenti come recruiter che sono il nostro recruiter del mazzo ci permettono di calare il nostro proto cyber drago e diciamo ci facciamo un po le sozzerie e inciocchiamo diciamo ecco l'altra carta spicy sono la luce creatura sigillo fusione allora questa carta cosa fa praticamente possiamo sostituire questa carta come qualsiasi materiale da fusione ovviamente non dal mazzo con futura se no sarebbe troppo bello è molto bello tuttavia per farlo l'altro materiale fusione deve essere ovviamente quello giusto la cosa forte però qual è? possiamo offrire come tributo questa carta qui assieme diciamo agli altri materiali ed evocare appunto dal fusion deck un mostro luce fusione appunto i cyber drago e calare lo special insomma e fare un pochettino i disastri e appunto sono anche i calapi con lo shining angel quindi sono veramente forti ho provato a giocarli a tre ma mi sono risultati un pochettino briccosi però per certi versi hanno anche il loro giocarli a tre quindi probabilmente riproverò a farlo e visto la presenza, vista anzi scusate la presenza di molti mostri luce gioco due honest si chiamano honest ma come sappiamo ben tutti è la carta più disonesta all'interno di questo gioco che vi devo dire anche calapi di shining angel e visto che giochiamo a shining angel il gioco ha anche due dd warrior lady che vabbè sono una delle carte più forti del formato secondo me è forte e poi come ultima carta cyber giochiamo mi sono scordato l'eltadin che cosa va? praticamente è una sorta di non voglio chiamarlo norleras però praticamente quando viene evocata manda al cimitero tutti i mostri scoperti sul terreno ovviamente eccetto questa carta infatti dice tutti gli altri mostri scoperti sul terreno e prende 500 per ogni diciamo per il numero di mostri banditi da questa carta quando la caliamo però a 2 è un po' pesantuccia per quanto forte però a monocopia mi sono trovato veramente benissimo poi gioco il reparto macchina quindi 3 gear frame 2 fortress non ne gioco 3 e gioco un mech forza un macchina o macchina force come vogliamo chiamarlo allora il motivo di questa scelta è che obiettivamente a differenza magari dell'avversione con i macchina gajiltro insomma quindi abbiamo sempre il drago gajiltro è bello grosso in un livello 8 ed è facilmente scartabile qui difficilmente diciamo andiamo a scartare certo abbiamo tanti target macchina cioè macchina scusate però io onestamente mi sono trovato decisamente meglio così più equilibrato bricco meno abbiamo sempre la maniera nel caso di ricalarlo perché appunto in caso di manovra estreme possiamo scartarci i nostri i nostri macchina però per l'appunto tendenzialmente sono quelli che ci servono per la combo chiamiamola combo però per le meccaniche del cyberdrago carte molto forti macchina diciamo sono un engine molto forte per quanto riguarda il reparto macchine in sé per sé poi gioco un cricetone e due rico che appunto ci aiutano a millare un pochettino di roba tra cui i mostri macchina i macchina i cyberdraghi per diciamolo per loadfusion o carte simili ma abbiamo anche carte come un plug spreader zombie perché obiettivamente il tuner forse è più versatile con gale per certi versi e diciamo si sinergizza parecchio con rico e poi praticamente un'altra cosa possiamo sfruttare lui più il macchina fortress per calarci un bel ciccione che vedremo alla fine del video l'extra deck due kaius perché boh voi lo sapete la mia opinione su kaius nel formato edison kaius è veramente rotta come carta vista l'assenza di veiler skill drain assolutamente si può capitarci contro ma qual è la proprietà rispetto a un veiler in formato tengu diciamo decisamente più bassa sicuramente forti forte contro blackwing forte contro vaio turbo e niente cioè kaius è gigantesco in questo formato e infine un gourds perché diciamo vogliamo sempre avere il parino pronto quindi questo è per quanto riguarda il reparto mostri per le magie abbiamo invece una fusione futura che paradossalmente ragazzi non è forte quanto in drago questa carta ma io continuo a giocarmi perché niente obiettivamente è forte un overload fusion è un vincolo di potere queste diciamo sono le tre carte fusione che sono state anche un po' simbolo di yugi in generale sono veramente forti vabbè giustamente in modo proprio a fusione futura però ripeto non è così tanto impattante rispetto a drago per esempio che a proposito se volete potete andare a vedere la decklist del mazzo e praticamente questa è obiettivamente la carta che ci va a fare ottk se ci capita la mano buona ma anche questa diciamo non scherza diciamo che l'ideale sarebbe attivare pure queste due assieme fare un pochettino di disastri mettiamola così veramente forte poi gioco vabbè ovviamente rimozione dei limiti di limite giochi macchina non puoi non giocare a sta carta che senza senso due botto favoris che forse è la carta su cui sto titubando un pochettino ero tentato di portarla a uno ma allo stesso tempo mi ricredo sempre perché diciamo giocando rico avendo diciamo la possibilità di macinarla è sempre meglio averne diciamo una di scorta certo è un po' diciamo a scommessa giocarne una e poi te la macchino su un pochino di cazzo cioè non è così essenziale devo essere sincero però è sempre meglio averla perché ovviamente è forte poi ovviamente udite udite come si fa a non giocare sta maledetta carta del e infine essendo diciamo un mazzo ottk giochiamo un Jantronate un tifone e una tempesta potente e infine come unica trappola gioco questa diciamo che ho valutato e giocato anche la versione con più trappole perché diciamo un po' sentivo quasi la necessità di giocare il richiamo del posseduto per riciclarmi più volte il mio amichetto qui o chi di dovere insomma però diciamo così sono più stabile a 40 carte sto preciso riesco a sidare anche più facilmente in questo contesto quindi io bene o male ho deciso di buildarlo così mi diverto io vi consiglio anche di giocarlo soprattutto se siete amanti di Cyber Drago se è una delle vostre carte preferite come molte persone soprattutto per diciamo i veterani chiamiamoli così del gioco dell'anime bello poi in spagnolo questa è la mia prima carta ordinata su card market piccole aneddoti per l'extra abbiamo eccola qui la core card è ovviamente il Cyber Drago gemello che è praticamente un bel vittone di 2008 che può picchiare due volte e mi è capitato di fare varie volte là da oltre 11.000 danni quindi che dire il mazzo obiettivamente esiste per questo quindi l'ho creato appositamente per questo poi gioco il Drago Supremo Chimeratec questo appunto per l'Overload Fusion poi gioco due Chimeratec quest'altro non il Supremo il Fortezza perché vabbè gioco due uno perché abbiamo tanti Cyber Drago due macchina obiettivamente è un mazzo anche super giocato quindi possiamo anche sfruttarlo al nostro vantaggio e poi vabbè come ultimo fusione gioco un Cyber Drago finale ma obiettivamente ragazzi questo potreste anche non giocarlo perché io l'avrò calato forse fra tutti i test che ho fatto una mezza volta ma è andato pure caputo subito quindi se volete liberarvi lo slot ed essere più stabili potete toglierlo poi se volete fare un po' gli sboroni come me e vederlo nell'ex mi dice cazzo c'ho il Cyber Drago finale giocatelo io gioco per divertirmi io ando a giocare diciamo con ciò che mi piace certo cerco di buildarlo nella miglior maniera possibile secondo il mio punto di vista però che step come si suol dire poi gioco il Gotham il Gotham allora la particolarità è che richiede appunto un tunnel più uno più mostri terra e come possiamo farvi vedere da qui abbiamo il tunnel e nell'eventualità il nostro mostro terra 7 più 2 se la matematica non è un opinione è 9 lui è un livello 9 è un 3100 va sopra tanti mostri del del formato forte quindi lo si gioca poi gioco un Dark and Dragon visto che giochiamo appunto Kaios e il Plug Spade Zombie ti prego metti a fuoco ho fatto disastri vabbè Stardust Colosso andiamo un po' per diciamo in discesa di numero Rosa Nera Brionok Goyo Catasto e infine un Armory Arme questi due diciamo tendo quasi sempre a giocarli assieme perché c'è la combo maledetta di sto formato ma detto questo passiamo al side che ragazzi non è da sottovalutare perché il mazzo si può permettere determinate carte come ad esempio per l'appunto due belle luce luci consacrate festa variante al cali contro Blackwing Blackwing non gioca più la cali di Shining Angel che ti devo dire rotta come non so cosa poi gioco due corvi forti generalmente un po' contro tutto il meta poi gioco due Vanity's Fiend e due Jinso vabbè di base lui non fa fare special lui invece non fa usare trappole quindi sapete insomma sapete il contesto in cui giocarlo due Nobleman sempre contro Vaglioturbo mazzi che tendono a settare due tornate di polvere e infine tre tirare il tappeto contro Monarca ovviamente il side modificato in base alle vostre esigenze in base a magari se siete il classico gruppo di amici che vi conoscete e conoscete diciamo i mazzi dell'altro fatelo in base a quello perché ovviamente un side va ragionato io ovviamente vi do giusto uno spunto poi potete buildarvi il mazzo come vi pare e piace queste sono le mie liste e le faccio come cacca quindi questo era tutto dal mio Cyber Drago vi ricordo di iscrivervi al canale di nuovo qualora non l'aveste fatto e scrivetemi qui sotto nei commenti quale altro deck vorreste vedere ripeto in cantiere ce ne ho alcuni tra cui il Naturia dovrei ritestare il Clodian per il formato Edison ma anche Tengu Plant perché di base tendo di farlo diciamo per entrambi i formati e fatemi sapere se magari volete una versione 2011 del mazzo visto che il nostro amico Cyber Drago nel formato 2011 caso che non sapete di cosa stia parlando c'è il mio video guida in cui vi spiego il formato comunque il nostro caro amico è A3 quindi diciamo potrebbe avere qualche possibilità in più in termini di Power Play quindi grazie ancora per aver guardato il video fino a questo punto vi ricordo sempre di visitare i miei partner che stanno qui sotto in descrizione caso che vogliate qualche sconto e supportare allo stesso tempo il canale e niente spero di potervi dare news a presto riguardo la mia situazione e ci vediamo al prossimo video see you next time su